Musica Io ringrazio tutti voi per essere stati qui, andiamo a mangiare ma soprattutto voglio dire un grazie, un grazie, un grazie a parte il consigliere che è sempre nostro ospite, gentilissimo e viene sempre a vedere gli spettacoli era già venuto a vedere i monologhi di fitta e ha saputo che c'era questa giornata e ha detto io voglio venire ma soprattutto devo ringraziare, adesso vi farete una risata, Patrizia Patrizia sono questi signori che ci fanno i video, sono bravissimi, io non li conoscevo, mi hanno fatto un video meraviglioso in due giorni, due giorni, con il trailer, tutti stati gentilissimi, quindi oggi ho telefonato e ho detto siamo lì, facciamo cretinate, stiamo lì tutto il giorno, ognuno fa un pezzo, dice ma la scaletta? No, non ce l'abbiamo perché non sappiamo chi arriva a che ora, chi va via, e quindi si sono adattati a noi e sono stati veramente molto gentili, grazie Primo piano, sala e comuseo, buon appetito a tutti Due minuti, una cosa serissima, allora un applauso per Antonella di Sicuro Grazie No, non ci solamente chiederei il vostro contributo, abbiamo fatto tutto noi, bisogna far collaborare anche loro a fare una cosetta un attimo, vi chiederei di prendere in mano una cosa che avete tutti, non parlo solo dei maschi, anche delle donne quindi non capite mai, è una cosa molto seria, prendete il vostro telefono, grazie Prendetelo in mano, grazie, è detta così, non è una cosa... No, insomma, anche tu però È una cosa seria Seria Le vecchie fedi stanno scomparendo, una nuova fede ha conquistato ormai milioni e milioni di utenti la fede nel Signore Dio Web Cari fedeli, i vostri telefoni ce li avete in mano, in piedi, grazie Seduti, grazie Nel nome del tablet, del file, dello spirito Samsung Mettete e dite, mi piace Ripetete, mi piace Mi piace Signore Dio Web che abiti nei nostri smartphone e che vieni chiamato Internet Volgi la tua webcam su di noi nel nome del tuo figlio YouTube Mi piace Mi piace Benissimo In piedi Chattiamo insieme e diciamo Padre nostro che sei nei tablet, sia taggato il tuo nome, venga il tuo iPhone, sia Fastweb la tua volontà Come in Twitter, così in Instagram Dacci oggi il nostro selfie quotidiano e commenta noi i nostri post come noi li commentiamo ai nostri seguitori Non ci indurre alla formattazione e liberici dallo spam, mi piace Mi piace Rendiamo grazie al web Dal Vangelo secondo Steve Jobs Il primo giorno Dio creò Google in modo che tutti potessero cercare Mi piace Mi piace Il secondo giorno Dio creò Amazon in modo che tutti potessero comprare Mi piace Il terzo giorno Dio creò BlaBlaCar in modo che tutti potessero viaggiare Mi piace Il quarto giorno Dio creò WhatsApp in modo che tutti potessero ricevere continuamente notifiche Mi piace Il quinto giorno Dio creò Facebook in modo che tutti potessero perdere tempo Mi piace Il sesto giorno Dio creò Pokémon Go in modo che tutti potessero definitivamente rincoglionirsi Mi piace Il settimo giorno Dio si riposò mettendosi in modalità aereo In piedi e scambiamoci ora un selfie di pace Cari follower siamo oggi qui riuniti in streaming per ricordare la parola di Dio web Cari fedeli non nascondo che sono molto preoccupato So che c'è ancora qualcuno fra voi che spegne il computer e i propri smartphone Per andare fuori a giocare all'aria aperta I luoghi di perdizione, i giardini pubblici Vergognatevi Ricordatevi che il signore Dio web ci ha dato la possibilità di restare chiusi dentro casa E commentare qualunque cosa senza saperne nulla Pensiamoci per un minuto Che uomini saremo senza i nostri smartphone? Senza il web? E allora mi appello a voi Pecorelle smagnetizzate Tornate nelle vostre case e chattate Cliccate, twittate Ringraziamo il signore Dio web onnipotente e onnipresente Che si è spento per noi E dopo tre giorni si è riavviato Siamo alla conclusione Oh wireless, oh wireless, oh wireless nell'alto dei siti I cieli e la terra sono pieni delle tue onde Ripetete con me Oh wireless, oh wireless, oh wireless nell'alto dei siti La messa finisce qui Andate in Facebook e andate anche a mangiare Grazie Grazie Grazie